Nel giallo furgoncino del Natale al contrario, i balocchi non si comprano, si regalano e, pensate, sono stati a loro volta regalati. La gioia nel cuore, la capacità di riciclare in modo solidale nell'animo, ecco che a Padova, in questo caldo Natale 2019, prende forma il progetto Do Ut Des, io do perché tu dia per dirla la latina. Associazioni, persone di buona volontà e l'amministrazione comunale di Padova, che ha creduto nell'iniziativa e reso possibile la magia. Abbiamo raccolto un sacco di doni, sono arrivati tantissimi libri, tantissimi oggetti di vario tipo, una prerogativa erano doni belli, abbiamo richiesto doni belli, sono arrivati doni belli e importanti. Questo furgone è diventato, come dire, una specie di casa di regali dove le persone vengono, se li scelgono aperti e il progetto Do Ut Des glieli impacchetta perché sono regali da regalare. Tutto fatto tornare a nuova vita, a partire dalle decorazioni in questo angolo dell'Arcella, tappa finale di una ventina di punti di raccolta finanziati dal bando Vivi il quartiere. Una vera e propria buffata di regali frutto di uno sfrenato shopping solidale, tanto che il furgoncino è quasi vuoto, ma il progetto non si ferma qui. A Natale, come dire, c'è questa specie di apice del consumismo, ma Do Ut Des è un progetto, è una testimonianza di un sentimento che è diffuso ed è un sentimento che va molto al di là delle festività natalizie, che coinvolge tutti, che coinvolge tutti e in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Grazie a tutti.